Una serie di opere inedite in esposizione a Bisceglie, presso Palazzo Tuputi, laboratorio urbano, nella sua personale senses dell'artista Domenico Velletri, metamorfosi romantico dal tratto a sfera. Domenico Velletri, pittore e scultore biscegliese, è noto per aver realizzato opere di pregio e vole fattura in varie città italiane, per aver allestito numerose personali e collettive, pubblicazioni e per aver conseguito numerosi riconoscimenti e premi. Con le serie senses, corpi fantastici e surreali emergono attraverso l'intreccio di migliaia di linee d'inchiostro, conducendo l'occhio dello spettatore all'interno di un mondo parallelo seducente e impenetrabile ai confini tra realtà ed immaginazione. In un'epoca in cui la percezione del mondo viene mediata attraverso l'onipresenza delle immagini di corpi eccessivamente curati e enfatizzati, nasce la volontà dell'artista di sottrarre l'immagine al proprio universo mediatico per riportarla in una dimensione mistica. L'opera è quindi il risultato di una metamorfosi romantica del tratto a sfera. La scelta della penna Bic, perché è adatta a seguire i temi della fantasia che si sviluppano distinto senza un precedente bozzetto. Inoltre la penna dà la possibilità di realizzare opere di notevole qualità e raffinatezza, entrando più nel particolare, esaltando il dettaglio, il particolare microscopico, i volumi e le venature. La serie Senses è carica di percezioni indefinite in cui sono gli spettatori a trovare il piacere e determinarne il senso, se ne hanno intenzione e bisogno. Questa nuova serie che ho realizzato sono corpi fantastici e surreali. Nascono dall'esigenza di creare queste figure in modo tale che allontanino l'osservatore dalle solite immagini che vengono bombardate dai vari social, tv, queste immagini, questi corpi eccessivamente curati, enfatizzati. Quindi nasce questa volontà di sottrare questa immagine a questo universo mediatico e quindi portarle in una dimensione mistica. Sono figure ottenute dall'unione di mani e corpi. Ho utilizzato la figura della mano come elemento di comunicazione, perché la mano con la sua gestualità comunica. Unita anche alla parte del corpo, ho dato vita a questa forma, a queste immagini in una dimensione così mistica.